Salve a tutti, sono Michele Gallucci, giornalista di Marketube. Io davvero sono molto allibito di quello che scrivono i miei colleghi. E siccome oggi il 25 aprile è la festa della liberazione, io voglio essere libero di dire quello che penso, visto che non sono libero di scrivere quello che penso. Tra l'altro io avevo fatto un'inchiesta sul perché non ci facciamo il bagno al mare d'inverno e non me l'hanno mai pubblicata. E cosa pubblicano? Questo. Il caso. Il divorzio è finalmente breve, bastano sei mesi per dirsi addio. È una stupidaggine, ci vogliono cinque minuti. La mia ex con cinque minuti mi ha andato a fare in cuore, quindi non ci vogliono sei mesi. Grazie Ambroggio. Letta, nuovo attacco. Renzi è metadone. Gelo anche da Prodi, che rilancia l'ulivo. Il professore, non so se Matteo è figlio nostro. Matteo Renzi figlio di questi. Ecco perché se fate metadone. Uno che c'è il dubbio che è figlio di questi due, se fate metadone. Questa è fantastica. Tasso Euribor sotto zero. Ma chi ha un mutuo non può ancora festeggiare. Ma come fai a festeggiare se c'è un mutuo? Io ho un tasso a casa che si mangia tutto lui. Posso festeggiare? Ma vi rendete conto di quello che scrive? Allora guarda, giornalisti, colleghi. Ma se dovete scrivere queste cose, ma almeno fate sognare la gente. Dite cose che non sono vere. Che ne so, i politici si sono tutti dimessi. La mafia non esiste. A Lampedusa sbarcano continuamente imprenditori che daranno posti di lavoro a tutta Italia. E un uomo preso da un raptus di follia abbraccia la moglie tutto il giorno. Volete scrivere cose così? Fatelo. È molto meglio di quello che state facendo. Ambrogio, andiamo per piacere.